Mamma mia. Questa è un'immagine invece di persona, cosa sono? No, beh, lì è una stazione di servizio dell'epoca, dove il proprietario è bianco e tutti gli altri sono negri. Ah, ecco. Era per mettere in evidenza. Questa invece l'ho messa, non tanto perché c'è di tributora dagli anni cinquanta, ma perché c'è con la lavatrice qua, no? Guarda, io ero un bambino, in casa avevamo una lavatrice così, proprio. Erano così le prime. Stiamo parlando di che anno qui? 80 anni. Io sì, ero un bambino, per cui sono di 41. Ah, però, complimenti. No, ma dicevo prima che si sentono. Eh? Eh, però non li dimostra, eh. Eh, no. La Petrolea era una società francese che poi è stata assorbita dalla Fiat, perché la Fiat nel ventennio fascista vendeva anche la benzina. Sì. Ah, ecco. Sì. E Baku, che allora era in Russia, adesso è in Azerbaijan. Baku, perché la maggior parte del petrolio, arrivava alla Lancia. Sì, ok. Sì, ecco. Nei cartelli, anche lì, c'è qualcosa. Prendo le... Legnano, quello mai è diventato il logo della Rega. Sì. Ah ecco, lì era bicicletta e la gnava, vuol dire che hanno preso da qui, si, è uguale, si, si, era aperto da Giussano, e vabbè le rovi che hanno avuto qui le hanno esaltate, chi si ferma è premiato, dove? Lì? Ah, chi si ferma? Chi si ferma è premiato, si? No, chi si ferma è perduto? Sempre.